230 lettori, 21 location e un set fotografico, montato, smontato e rimontato, che ha seguito la carovana di Lectus 2018 sessione per sessione e nel quale il fotografo Maurizio Anselmi ha immortalato un incontro, sebbene mediato dalla macchina fotografica di grande umanità. 230 ritratti, una meraviglia, ma come si fa a ritrarre una persona e farla sembrare vera? Oddio, farla sembrare vera? Non so, certo è che in ogni ritratto, in ogni sessione fotografica c'è stato un rapporto umano sostanzialmente, anche in alcuni casi di frazioni di secondo e questo è stato l'interessante di questo lavoro, entrare in qualche maniera in contatto con persone assolutamente sconosciute, le più almeno sconosciute e cercare di tirar fuori un piccolo segno, una piccola immagine di sé. Come è venuta questa idea? Ma questa è un'idea che io avevo in realtà da tempo, fotografare Teramo attraverso le persone, poi con Lectus mi è venuta questa brillante idea di contattarli, perché io non ero molto dentro tutta quanta la situazione di Lectus, mi sono interessato, ho fatto la proposta, è stata accolta in maniera veramente bella, anche perché è stato un pochettino faticoso, perché sono stati 21 siti di lettura e su questi 21 siti ho dovuto montare il fondale che comunque per dare omogeneità di lettura è stato un unico fondale, un unico punto luce, un'unica ottica, quindi tutto uguale per tutti. Quindi dovevano parlare solo gli occhi e i visi. È stato più difficile fotografare le donne o gli uomini? No, indifferentemente, certo per le donne magari c'è sempre questo atteggiamento un po' alle rughe, il tempo, io ho detto guarda qua non facciamo nessun fotoritocco, tutte le persone devono essere per quello che sono. Nessuno sconto? E a lei chi gliel'ha fatto il ritratto? Il mio è stato fatto dall'amico Tullio D'Ambrosio che è fotografo, quindi ci siamo scambiati le macchine fotografiche. La galleria di ritratti di indiscutibile fascino è esposta nella mostra Volti di Lectus fino al 16 dicembre nella sala ipogea di Teramo.